L'area di endocrinologia e malattie metaboliche tratta e si occupa di condizioni morbose molto diffuse nella popolazione generale, quali per esempio le alterazioni del metabolismo, diabete, obesità e alterazioni endocrinologiche, anche queste molto diffuse nella popolazione generale, quali i distiroidismi, cioè l'iper- e l'ipotiroidismo. Per affrontare meglio e rispondere meglio ai bisogni della popolazione, l'area è stata articolata in due sottounità operative, una più prettamente endocrinologica, unità operativa di endocrinologia, l'altra mirata al diabete e alle malattie metaboliche. La nostra unità operativa è un'unità complessa che prevede sia dei letti di degenza che delle strutture dove vengono effettuate delle prestazioni di dei ospita. Va detto comunque che in campo endocrino metabolico la principale attività avviene a livello ambulatoriale, questo perché essendo il diabete, l'obesità e le patologie endocrine nella maggior parte dei casi delle patologie cronico-degenerative, il follow-up dei pazienti deve avvenire a livello ambulatoriale con dei contatti ripetuti. Pertanto nella nostra unità operativa abbiamo strutturato diversi ambulatori, il primo dove avviene lo screening dei pazienti è un ambulatorio più generale che l'ambulatorio di medicina interna, da qui i pazienti vengono indirizzati in degli ambulatori più specifici, quali sono l'ambulatorio di diabetologia, l'ambulatorio di dietologia e obesità e l'ambulatorio più prettamente di endocrinologia.